buongiorno da italia zulu 4 victor kebexer vinco quasi sempre è quasi che mi frega in avvicinamento a italia lima golf 321 montepenna attivazione sopra dunque il percorso la strada è rinterrotta per ghiaccio il percorso è passo del chiodo la nave e poi la salita per la ferrata del del montepenna in 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 Grazie a tutti. Sicusota, 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 Italy, Zulu, 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP, Sicusota. Giulia, 5, Giulia, Kilo, Kilo. Roger, Florida, 5, Giulia, Kilo, Kilo, 5,9, Reference, Sota. Sierra, 5,7, India, Lima, Foxtrot. Roger, Sierra, 5,7, India, Lima, Foxtrot, 5,9, QSL. Good morning, you coming also, 5,5,9, thank you, bye bye. Thank you to you, my friend, bye bye. Oscar Eco 6, Eco, November, Delta. Oscar Eco 6, Eco, November, Delta, 5,9, QSL. Roger, Roger, good morning, 5,9, also, 73. 73, my friend, bye bye, good weekend, ciao. Italia, Kilo, Kilo, India, Lima, Hotel. Roger, Italia, Kilo, Kilo, India, Lima, Hotel, 5,9, fortissimo, e QSL? QSL, buongiorno, grazie per il Summit, 5,9, anche per te a Milano, QSL. QSL, grazie ancora, ciao, 73, buon fine settimana. 73, grazie, buon divertimento, ciao. Delta Giulia, 2, Milano, xilofono. Roger, Delta Giulia, 2, Milano, xilofono, 5,9, QSL. QSL, buongiorno, grazie mille, 5,7, anche per te, QSL. QSL, QSL, grazie, finalmente ho trovato una fettina in mezzo al contest, a free space in the contest. Thank you, my friend, bye bye, 73. 73, ciao. Ancona xilofono, Ancona xilofono. Roger, Ancona xilofono, avanti. Ontario, Milano, 1, Ontario, Milano, 1, Ancona xilofono, 5,9, QSL. 5,9, grazie mille, polno sotto, a telemetrici, ciao, ciao. Ciao, 73, QRZ. Eco, Alfa, 3, Charlie Yankee Mike. Eco, Alfa, 3, Charlie Yankee Mike, 5,9, QSL. Grazie, 73, buona giornata e buon contest se lo fai, ciao. Italia, Zulu, 0, Delta, Italia, bravo. Italia, Zulu, 0, Delta, Italia, bravo, corretto? Corretto, buongiorno, Italia, Zulu, 0, Tomodossola, Imola, Bologna, 659 in Roma. 5,9 anche per te, splendida giornata, ti passo la referenza, Italia, Lima, Golf, 321, Montepenna, QSL. Zelle, Italia, Lima, Golf, 3, 2, 1, grazie mille, buon divertimento e buona attività. Italia, 1, 4, V, QS, Italia, Zulu, 0, Delta, India, bravo. Roger, ti ringrazio, buon fine settimana, grazie ancora. Oh, buongior, Foxtrot 4, Whisky, bravo, november. Oh, buongior, Foxtrot 4, Whisky, bravo, november. 5,9 for you, my friend, back to you. Roger, Roger, many thanks, Foxtrot 4, Whisky, bravo, november, good morning. You're also 5,9, 59. Molto grazie, buona fortuna. Ciao, grazie, buona giornata, buon fine settimana a te, ciao, 73. Ciao, grazie, Italia, Uniform, 3, Golf, Kilo, Juliet. Allora, Italia, Uniform, 3, Golf, Kilo, Juliet, 5,9, corretto? No, no, buongiorno, 5,9, fortissimo, ciao, buon divertimento, grazie. Roger, grazie, Eco, Alfa, 2, Delta, Tango, over. Sì, buongiorno, ti ascolto benissimo, 5,2, 5,2, QSL. QSL, Manuel, 5,9 per te, 5,9 per te, grazie per aver risposto alla mia camata. 73, buon fine settimana, ciao, Manuel. Sierra, 5,6, Romeo, Papa, Juliet, Sierra, Romeo, Papa, Juliet. Sierra, 5,6, Romeo, Papa, Juliet, 5,9, QSL. QSL, QSL, good morning, 5,8, 5,6, Juliet. Roger, Roger, Eco, Alfa, 2, Eco, Victor, Mike, 5,5, 5,5, grazie, 73. sicu sota sicu sota sicu sota italy zulu for victor kebeck sierra portable qrp italy zulu for victor kebeck sierra portable qrp sicu sota oscar eco over oscar eco six romeo charlie eco is correct roger oscar eco six charlie radio delta is correct ragazzi la dislessia roger eco oscar eco six romeo charlie delta sorry my friend sorry my friend 59 qsl 73 my friend a quercet eco alfa 2 charlie kilowatt x-ray 59 qsl 73 my friend bye bye quercet sierra 57 november juliet mike 55 qsl roger my friend thank you oh buongiorno india x-ray uno india hotel radio 59 reali e 59 più 10 guarda italia lima golf 321 qsl a guarda oggi pensavo detto mi farò solo la scalata l'arrampicata ma poi accendo la radio non troverò un buco libero e invece mi sono stupito grazie buona giornata buon fine settimana ciao foxtrot sierra lima over roger oscar eco five foxtrot sierra lima oscar eco seven oscar eco seven over roger oscar eco seven papa hotel india five nine a quercet oh buongiorno italia uni udine 3 scusami ripetimi il call roger eco delta chilo c'ho la penna che non funziona sto registrando tutto tutta la attivazione perché non saprei come scrivere o scrivo col sangue o faccio così 59 ti passo la referenza italia lima golf 321 qsl buongiorno italia chilo 1 golf papa golf 59 reali referenza italia lima golf 321 qsl grazie 73 buon fine settimana sicusota 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 italy zulu for victor kebex era portable qrp italy zulu for victor kebex era portable qrp sicusota verso le nove è andata molto bene per una quarantina di minuti poi poi è finita e poi è finita la festa a te il cambio qsl qsl guarda l'avevo messa in progetto detto tanto faccio una rampicata qualcosa concludo allora in discesa dal rifugio montepenna ho mangiato qualcosa di veloce eh no voi due in moto secondo me tornati indietro vabbè cosa ne penso dello cegu in attività assolta durante un contest si è comportato molto bene mi ha stupito non so se sono stato fortunato io a beccare una fetta di frequenza libera ma il disturbo gli esplatteri esagerati dei partecipanti al contest non hanno dato fastidio più di tanto va bene anche il consumo della batteria modesto è vero che ho fatto un'attivazione molto breve a un certo punto qualcuno si è impossessato della frequenza e ami mi ha fatto piacere la chiusura del soda con un summit to summit italia whisky 2 lei lì ma ecco gli enti spero di non sbagliare il nominativo in ingresso nel paese alte sono sbaglio cosa è mille metri di cuota dovrebbe essere mi fermo per un caffè se vuole passare qualcuno offro molto volentieri 70 70